andiamo alla prova al presidente della squadra avversaria pietro ingoia presidente oggi non ha funzionato niente la squadra non è pervenuta però però vista l'età giovane l'infortuno del portiere dopo non deve essere un alibi però l'infortuno del portiere titolare dopo pochi minuti ha falsato un po la gara e certamente ha caratterizzato tutta una serie di problematiche tutto anche perché noi siamo stati tutta la notte svegli sulla nave sì perché c'è stato un mare agitatissimo ci ha distrutti completamente e poi sul campo è successo quell'incidente che ha penalizzato un po tutta la situazione vogliamo ricordare le difficoltà del campione serie b venite dalla sicilia una lunga trasferta le ragazze la notte non deve essere un alibi però le ragazze svegli la notte la serie b comporta oneri da mantenere sì oneri abbastanza pesanti anche perché queste trasferte così lunghe penalizzano molto le varie squadre non parlo solo della mia ma anche delle altre che magari verranno poi in sicilia dico anche che non lo so è stata è stata oggi una che ci siamo trovati tutti male un pronto riscatto per la sua squadra a partire al prossimo presidente grazie perché non è facile parlare dopo un 7 a 0 viva sempre il ferpello ospitalità ci vediamo al ritorno in sicilia sì noi giochiamo sempre ci divertiamo siamo qua per questo poi il risultato alla fine dei conti è quello che viene viene grazie